è sempre ottima si si è dietro l'albero sta arrivando ce l'ho non è neanche così piccola dire il vero su madonna non è brutto non è brutto un bel piusetto fresco fresco si si poi dei bei colori ma sai cosa con questo vento lo sciaddino è devastante comunque appena pinzato è un bel loccio dai primo lancio questo è bolsena style ciao 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 ciao